Un altro morto a causa del coronavirus, il 638esimo dall'inizio della pandemia e il nono dall'inizio di questa settimana nell'area pratese, è una donna italiana di 67 anni da giorni ricoverata all'ospedale Santo Stefano. È quanto riporta il bollettino diffuso oggi dalla regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Nella provincia di Prato sono stati accertati nelle ultime 24 ore 217 nuovi contagi, che portano il totale a 26.201. In Toscana i nuovi casi sono stati 255 per un numero complessivo che ad oggi è di 282.467. I morti invece sono 6, 4 uomini e 2 donne, età media, 79 anni. Gli ultimi decessi portano il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 7.175, facendo della Toscana la dodicesima regione in Italia per il tasso di mortalità. Gli ultimi casi sono stati rilevati dall'analisi di circa 18.000 tamponi, con un tasso di positività a esclusi controlli del 3,7%. In calo, seppur di poco, il numero dei ricoverati. Negli ospedali toscani ci sono 6 pazienti in meno rispetto a ieri, per un totale di 265, 35 dei quali in terapia intensiva. Questa è la situazione a Prato, 26 letti occupati su 32 disponibili in area Covid e 3 su 5 in terapia intensiva per quanto riguarda l'ospedale Santo Stefano, 13 occupati su 20 disponibili al centro Pegaso.